La malattia di André è un uragano, sette tifoni. L'autismo l'ha fatto prigionare. Dove andiamo? Avanti. Avanti. Ti va a Marocco, ti va a Marocco. A forza di fare le cose arrivano, a forza di aspettare, di chiedere o di sognare, no. No, come the woman, what am I see? Vittu da in the table, what am I see? Well, come the woman, what am I see? Grazie.